gentili telespettatori buona serata buona nottata una notizia è triste e morto paolo rossi il leggendario calciatore italiano campione del mondo nel 1982 quindi addio all'eroe d'italia campione del mondo sconfitto a 64 anni da un male incurabile incurabile una notizia terribile arrivata dopo poca dopo pochi minuti trascorsi dalla mezzanotte l'eroe gentile dell'italia campione del mondo dell'82 quella che batte il brasile di zico e regalò al paese il sogno mondiale l'annuncio della sua morte è arrivato dal profilo instagram della moglie federica cappelletti eroe indiscusso del mondial 1982 che lo riabilitò dallo scandalo scommesse era considerato una divinità anche dai cronisti brasiliani che subirono attoniti la straordinaria tripletta di italia brasile 3 a 2 valsa anche un libro dal titolo inevitabile ho fatto piangere il brasile una tripletta storica della quale pablito ricordava il ct berzot non riuscì a dirmi nemmeno una parola una leggenda io ricordo che nel 1982 io sono del 74 avevo 7 anni 7 8 anni mi ricordo che aveva era finita la finale che avevo visto sul balcone del palazzo al quinto piano ad arona in via vittorio veneto e avevo disegnato su un foglio di carta la bandiera italiana colorata con i tre con i tre colori beh il bianco non l'avevo colorato ho fatto le due strisce rossa e verde poi siamo andati in giro con con la macchina io mia madre con mio fratello e siamo andati proprio a girare per la cittadina per suonare festeggiare la vincita ai mondiali io questo ho questo ricordo dei mondiali della finale dei mondiali del 1982 e così dopo dopo maradona se ne va un'altra leggenda del calcio nel mondiale del 1982 e pablito si aggiudicò anche il titolo di capo cannoniere nello stesso anno vinse anche il pallone d'oro diciamo l'italia era un'italia caldissima di quell'estate l'italia non era molto forte sulla carta la finale di madrid era un'utopia un'utopia che però vide un popolo intero scendere in piazza per festeggiare come vi dicevo il presidente sandro pertini volare nella capitale spagnola e prendere amabilmente in giro per tutta la finalissima con la germania il suo omologo Helmut Kohl sotto il benevolo sguardo del re Juan Carlos che vide una partita di scopone scientifico sull'aereo di ritorno e tutti gli italiani a ripetere rossi tardelli altobelli nell'ordine in mezzo tra il brasilio e la germania la doppietta la polonia dell'amico zibi boniek così paolo rossi centro avanti puro è anche presente in tante canzoni di quegli anni adesso ce n'è una che mi ricordo che dice paolo rossi è un ragazzo come noi in una canzone che adesso non ricordo il titolo che sento sempre in macchina l'uomo dell'area di rigore esploso nell'an rossi vicenza è passato poi al perugia ed è lì alla juventus alla juventus in mezzo il gran rifiuto al napoli dopo il bianconero andò al milan prima di chiudere la carriera nel verona insieme a roberto baggio a bobo vieri detiene il record di gol azzurri ai mondiali con nove è stato il primo giocatore poi è guagliato da ronaldo il fenomeno e vincere nello stesso anno il mondiale il titolo di campo cannoniere e il parlone è il pallone d'oro ha vinto due scudetti una coppa campioni una coppa delle coppe una supercoppa uefa con la juventus mare affezionato anche al campionato di serie b vinto in bianconero con tanto di titolo di capo cannoniere di serie b era poi diventato anche un opinionista una voce tecnica per rai e per mediaset nel 2004 era stato inserito dalla fifa nella lista dei 125 più grandi giocatori viventi selezionata da pelè e dalla stessa fifa in occasione del centenario della federazione purtroppo paolo rossi lascia tre figli sofia elena maria vittoria e alessandro e la moglie federica io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di nottata arrivederci